Samuel Sterna numero 31, il corpo e il sangue di chi? Lo scopriremo insieme leggendolo e parlandone in questo video. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Samuel Sterna. Continuiamo a parlare della serie regolare che trovate tuttora in edicola. Questo numero è stato scritto da Marco Saveniago, l'ultimo acquisto della originale Trinità Fumasoli, Filadoro e Saveniago. Questo credo sia il suo primo numero in autonomia, non ne sono sicuro, ma è sicuramente scritto totalmente da lui. Mentre per quanto riguarda le tavole i disegni sono di Vincenzo Acunzo. Copertina come sempre dell'altra triade della Bugs e di Samuel Sterna che sono Piccioni di Vincenzo e Tanzillo. Tra l'altro parlando di copertine adesso sul sito della Bugs Comics potete trovare appunto un volume che vi mostra il processo per arrivare a ogni copertina di questi fantastici 30 albi. Vi consiglio caldamente di acquistarlo, è già sul mio carrello della Bugs Comics, non so se aspettare e acquistare anche Valerie a colori direttamente dal sito oppure fare due acquisti separati. Quindi se vedrete che magari parlerò di queste cose un po' più in là è perché ho aspettato. Vi ricordo sempre che qua sotto trovate anche le modalità nella descrizione per iscrivervi al fan club Sterniani. Trovate sempre anche la possibilità di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri. Che vi frega di condividere il video con tutte le persone che amano mangiare le altre persone e di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo video. E seguitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram. Etovich. Uno dei comprimari della mitologia sterniana è il detective Foster Cran, apparso pochissimo rispetto agli altri cavalieri, così chiamiamoli, quindi rispetto ad Ancan, rispetto a Angus, rispetto anche a Penny. Però con Penny se la gioca, perché anche Penny non l'abbiamo vista molto. Fatto sta che anche lui è entrato prestissimo nel cuore di noi affezionati. E questa è una storia praticamente che parte proprio da Cran. Cran che si ritrova coinvolto in un caso più grande anche di lui. Viene chiamato da un paesino della provincia scozzese che si è ritrovato praticamente a dover gestire una sorta di omicidio familiare, dove oltre all'omicidio c'è anche del cannibalismo. Questo è un argomento che si può già evincere dalle parole di Angus, dal Derry Lang, però ecco, se non volete scoprire di più sappiate che io farò spoiler, quindi cercherò di fare sempre spoiler graduale, quindi seguirò l'intreccio che c'è anche nel fumetto, però ecco, se non ne volete sapere, chiaramente leggete prima il fumetto, prima di sentire il mio video. Questo cannibalismo pare coinvolgere diversi abitanti del luogo e anche Cran, che è stato chiamato dalla contea locale in qualità di esperto perché ha avuto a che fare con un paio di casi sovrannaturali, a sua volta appunto è costretto a chiamare Samuel Stern, quindi in questo numero ci sono Samuel Stern e Cran, con un piccolo accenno di Angus che proprio fa le veci di quello che vorrei vedere sempre da Angus, oltre agli altri suoi aspetti, cioè quello di darci un supporto storico, un supporto culturale sulla demonologia e mi piace molto che in queste piccole tavole all'inizio Angus abbia ricoperto perfettamente questo ruolo. Per tutto il tempo poi Cran e Samuel sono appunto una coppia di sbirri, anche se non c'è quest'atmosfera alla baddie movie che magari c'è stata in altri numeri, perché il numero è davvero davvero molto serio, molto pauroso, ed è anche molto misterioso perché si cerca di capire cosa è stato infestato, se è stata infestata una persona, se è stato infestato un luogo, come è successo appunto come loro citano nel numero 11, l'abisso. Ecco, questa cosa ci porta fino alla fine con questa curiosità morbosa per capire cosa c'è dietro tutto questo, quale parte della mitologia sterniana ha potuto creare quello che ci stanno raccontando. E devo dire che è stato molto emozionante scoprire cosa c'è stato dietro ed è stato molto emozionante anche scoprire come sono stati coinvolti gli eventi di Abisco per, diciamo, smuovere le acque, o se volete un'analogia più calzante a mettere carne sul fuoco. Mi è piaciuto tantissimo l'intreccio che hanno imbastito per farci dare un assaggio di realtà, di quello che è successo appunto nel XVI secolo, per poi lasciare in sospeso il tutto, infarcirci la testa con un sacco di leggende che potrevano essere vere, false o a metà, per poi appunto spiegarci come si collegavano le due cose, come si collegava questo prologo iniziale appunto alla vera storia al di là della leggenda. E questa cosa credo sia un po' anche il valore aggiunto di questo numero, oltre al fatto che appunto, come già detto da stimati colleghi, si intreccia perfettamente anche nella trama orizzontale. Devo ammettere che nel finale, quando questo Alexander Bean ha parlato di nemico comune, io per un attimo ho pensato, e anche sperato, che questa strana setta del signor Lord Alastair si fosse evoluta nei secoli con l'agenzia, con Singularity, e pensavo avessero appunto voluto farci capire quanto è malata Singularity, quanto è malata più di quanto Samuel stesso riesca a capire. E invece no, invece semplicemente, semplicemente si fa per dire perché poi vedremo cosa succederà, hanno inserito un nuovo giocatore, un nuovo nemico, o forse dovrei dire un antico nemico perché è da cinque secoli nell'ombra questa setta di Lord Alastair, ancora re di vivo, spoiler ultima tavola, ancora re di vivo, sta agendo nell'ombra. Quindi, oltre a le possessioni demoniache pure semplice, oltre a gli eresiarchi che ritornano dall'inferno di legione a ripossedere le anime oppure a influenzare i luoghi, oltre a tutte le congreghe angeliche che non si capisce bene se sono alleati o sono fuori di testa fanatici, oltre a Singularity, all'agenzia, abbiamo adesso anche questa nuova setta. Quindi andremo a vedere come mescolerà le carte in tavola tutto ciò. Volevo soffermarmi un pochino sui disegni perché davvero sono spettacolari. La griglia è assolutamente classica, mi piace come nel flashback del 1500 ci sia questa specie di cornice, cornicetta un po' antica, se la vogliamo chiamare così, per farci proprio capire come sia nel passato questo prologo, come sia quasi smangiato il bordo di queste tavole. Poi ovviamente c'è il tempo presente con dei disegni come sempre fantastici, egregi, io adoro lo stile di disegno di Samuel Stern, anche se appunto non è unico perché ci sono tanti disegnatori, ma mi piace questa linea molto moderna, unita a un formato bonellide. Inoltre, nota particolare, nota di merito particolare, per le tavole che vanno a rappresentare l'antico libro che Angus sta leggendo per narrarci appunto questa leggenda. Sono state fatte veramente bene, per un attimo ho pensato che le avessero prese davvero da qualche libro, poi ho detto no, aspetta, è una leggenda che si stanno inventando, quindi per forza le hanno scritte loro. Lo stesso Samuel quando va in connessione con la caverna ha questo flashback, sempre con le stesse cornicette antiche, perché appunto è un flashback di molti secoli addietro. Poi, come sempre, io le tavole con la pioggia, quando sono fatte così bene, le adoro da morire. Tutto ciò che... dove c'è la pioggia, delle inquadrature un po' storte, è stato fatto molto molto bene. Non mancano delle splash page molto interessanti, devo dire che sono stato davvero molto colpito. Abbiamo persino il racconto puro e semplice di Alexander Bean che ci spiega veramente la verità dietro alla leggenda, ed è infarcito, ed è incorniciato da questa fantastica cornice, un po' più spessa, no? come se la realtà dei suoi fatti sia molto più solida dei ricordi e delle leggende che abbiamo visto invece poche pagine prima. Comunque ecco, tutta questa confezione, oltre al contenuto, è davvero un valore aggiunto. Quindi complimenti anche alla parte grafica. Io non ho altro da dire su questo numero, non perché non sia bellissimo, anzi, ma appunto non c'è un sottotesto, almeno io non ho trovato un sottotesto morale, metaforico, su cui mi piace discutere come faccio ogni tanto, ciò nonostante è un numero fantastico, che mi ha intrattenuto davvero tanto e mi ha fatto, come sempre, venire voglia di aspettare con ansia 30 giorni per leggere. Il prossimo numero che sarà Il sangue dei martiri. Quindi continuiamo sempre con questi titoli, è molto sulla mitologia cristiana in senso stretto. Voglio proprio vedere se vanno magari a toccare dei temi caldi. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi seguito qui, come il linkino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Adesso vado a togliermi sta felpa di Samuel Sterna perché inizia a fare caldo. Arrivederci. Grazie a tutti.